Ti sei mai chiesto perché c'è tanto dolore? Perché c'è tanta sofferenza? Perché questa vita è fatta di traumi, disavventure, malattie e tutto quello che ci fa stare male? E perché per alcuni di noi è peggio che per altri? Perché per alcuni di noi sembra che veramente non c'è mai la fine di questo benedetto tunnel? Non c'è mai quella benedetta luce? Te lo sei mai chiesto? Lo so che adesso penserai, ma cosa mi stai dicendo? In realtà ti sto dicendo una verità nuda e cruda. Il dolore è necessario, il fallimento è necessario, tutto quello che porta sofferenza è necessario, perché non impari dai successi, non impari stando sempre bene, non impari stando sotto una campana di vetro, impari sbattendoci la testa, impari cadendo, impari fallendo e soprattutto sviluppi la tua forza. Quindi il dolore è necessario, la sofferenza è necessaria e se non c'è mai questa luce alla fine del tunnel, perché forse non hai ancora imparato niente? Quindi fermati un attimo, cos'è che non stai vedendo? Cos'è che non stai imparando? Perché è lì che finirà il dolore. E per imparare davvero hai bisogno di strumenti necessari per la tua vita. Non possiamo continuare a girovagare così, a guardare qualcosa online, ok adesso faccio questo. No, hai bisogno di strumenti chiari e di una guida. E io sono qui per darti questi strumenti fisicamente e mentalmente.